buongiorno a tutti oggi siamo nel bosco con il mio nipotino e e facciamo una bella passeggiata a vedere se troviamo qualche del fondo va bene a dopo guarda 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 cosa salta fuori qua Franci guarda hai visto lo levi tu non ti farò vedere la prima volta come si fa perché l'hanno insegnato anche a me per cui si fa così direi vi vieni giro intorno poi lo levi levalo pure così piano no è dove prendiamo più da sotto perché lui ha la radice comunque dopo si prende e si copre ok hai visto che è carino dai levano te come ti ho fatto vedere pulisci bene tutto intorno bravissimo proprio così col dito così lì poi lo prendi bene da sotto prendi bene ecco così sotto lo lo vale perfetto bravissimo e poi si fa così ok oggi il bosco è umido molto molto umido e si prospettano nuove nascite adesso è arrivato il mio nipotino il cavatore che ha il compito di cavare bravo guarda un po la cosa c'è hai visto hai bello è quello lì parca 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 levalo pure da sotto è proprio da sotto vai giù vai giù ancora con la terra gli fai bene tutto il giro intorno ma adesso levano pure wow wow bravo Franci oggi ho il nipotino ho il nipotino aiutante e ci divertiamo more non ti insegna fai col dito così così intorno bravo valla tirano pure via pian pianino così bene lo prendi sempre da sotto è bravissimo poi mi si mette così e va allora questo lo facciamo levare la mia figlia chiara guardate che spettacolo poca miseria che gambona andando a caccia del fungone trovato da chiara del fungone megagalattico aspetta bello wow vai la felicità in faccia bravi bravo 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 bra prende Franci dobbiamo godercelo guarda che che tozzo che tozzolotto vai Franci va bene già così ecco pulisci bene così poi copri e sei a posto bravo grande vado a vedere bene meno male che mi sono assunto il cavatore di porcini cavo d'attore va bene amore perfetto bravissimo grande Franci cavatore con gli occhi di lince ha visto questa meraviglia buca miseria peccato il buio del bosco che non rende giustizia ma in ogni caso allora il mio il mio nipotino Francesco all'ennesima cavata vai gatto questo è addirittura sotto questi ce li lasciamo mi sono portato l'aiutante eccolo qua il risultato a pensarci bene ho fatto bene a portarmi il garzone bravo Franci grande avrai già il braccio stacco a forza di cavarle no no va bene così amore wow che radicione bravo bravo siamo quasi all'ubriacatura dovremmo mettere le sovrasponde al cestino andiamo avanti via andiamo avanti aspetta questo è la foto aspetta aspetta Franci facciamo una foto allora tieni tu lo cavo io facciamo così una volta invertiamo i ruoli bravo invertiamo i ruoli così faccio riposare il braccio anche il mio nipotino e lo caviamo eccolo qua grande grande e Franci il nipotino ha deciso di rifocillarsi non tenendo presente non tenendo presente che vicino al cestino c'era un altro funghino e allora lo leviamo ma che carino pure con la focaccia in mano focaccia e porcini questo video lo chiameremo così lo intitoleremo così focaccia e porcini bravo Franci eccolo qui bello questo questo è magico magico urca che gallo chiara pesta me lo ho io ti mangio facciamo ancora un po' va un pochino va bene dai non lo rompiamo si lo tiri un po' su tiralo in verso ecco bravo così perfetto bravo Franci adesso andiamo a levare quello guarda lì guarda lì guarda lì questo si toglie facilmente che gatto bellissimo 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 vieni 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 guarda cosa ci svela il bosco vediamo attento appena dove metti i piedi guarda il gatto perché qua ahah che belli Mario che meraviglia andati un po' indietro un po' sì 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 quelle lì io dico ma guarda un po' questi qui tutti questi uno due due quattro cinque sei sette otto nove dieci undici hai visto Franci guarda non per stare guarda quello lì è bello quello lì bisogna prendere quello lì è sicuro è sicuro questi qui questi quelli non lo so chiaro di te sai cosa bisogna fare bisogna sempre fare molta attenzione perché vedi stanno crescendo vedi qui stanno crescendo ma certo guarda lì guarda lì devi fare attenzione dove metti i piedi guardare proprio dove uno mette il piede perché qui quelli lì sono da prendere chiara tu quelli che vuoi prendere un lì c'è ancora un altro guarda lì eh fai attenzione sì perché ripesti se n'è un altro là giù lì attento dietro e farlo dietro se fossimo grosso fuori e io non li tenderesti? allora quelli la grosso è sicuro quello lì dietro anche papà quello lì e quello là e basta prenderei con questi certo quello che dicevo prima quello lì è mangiato quello lì è mangiato non l'avevo visto però questo è papà e quello lì da far sott'olio no? ma che ma adesso la carne è tutta mi ha cominciato mi ha mangiato anche mi zio quanto ce n'è qua è più un sacco eh fungaia mega galattica aspetta che gli facciamo il coso uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici sembra che come fungaia vada bene allora cominciamo a raccoglierne qualcuno come il nipotino il cavatore e mangiato per ooo questi li lasciamo come ti ha insegnato nonno gli fai bene il coso intorno bravissimo vai pure giù col dito così perfetto guarda lì ce n'era un altro sotto peccato è per quello che quelli lì non li lascia stare lasciamoli lì poi quello lì dietro di te chiara sai quanti ce ne sono qui sotto che magari noi stiamo festando e non li vediamo va bene amore va bene poi agli ordini vieni gatto allora io quello lì lo lascerei chiara avesse il cestino vuoto lo prendi ma io quelli li farei così no neanche tanto è perché sennò rischia di farli no no sarà lui sarà lui vieni franci leviamo ancora questi due ah ma è bello bello è bello questo si è rogato mamma mia che gambona che ha che gambona guarda lì sta buttando un altro anche questo bravo franci questo è bello fantastico stiamo a trovare funghi da 14 15 funghi non è che capita tutti i giorni grande ma uno di quei giorni è questo amore prendi anche questo questo è il bottino è il nostro bottino di oggi ammirare che bottino franci spetta eh mamma mia questo ci vuole la foto questo ci vuole la foto pensavamo già di aver finito invece scendendo sulla strada del ritorno ci siamo imbattuti in tre megagalattici in tre megagalattici in tre megagalattici che roba che roba che gatto che gatto dai dallo papà va che lì vicino via noi le abbiamo gli altri due il due bello anche questo grande bravo franci tiramolo già tiralo via due due il terzo è il terzo eccolo lì bravo è già quasi bravo è bellissimo grande 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 franci pensavamo di aver finito e invece purtroppo purtroppo per fortuna è blanchi e 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